L'ondata di freddo polare della scorsa notte ha portato ad un brusco calo delle temperature che a Catania e provincia è arrivato a 3 gradi centigredi. La neve è caduta abbondante in tutti i paesi della Cinta Etnea e fra le più innevate ci sono sicuramente Piedimonte Etneo e Lingua Glossa. Per tutta la giornata di ieri la neve è caduta con una certa continuità su Piedimonte che prevede già per il pomeriggio un ulteriore abbassamento delle temperature che scenderanno fino a meno 6 gradi centigredi in nottata con rischio di gelate. Ma sono state in particolare le frazioni di vena e presa quelle più colpite dalla nevicata di ieri. Nelle due frazioni sono caduti circa 20 centimetri di neve che ne hanno provocato l'isolamento. L'amministrazione comunale di Piedimonte ha chiesto e sollecitato l'azione dell'ex provincia per l'intervento degli spazzaneve che ancora però non è stato attuato. Siamo in attesa di risposta, afferma il sindaco Ignazio Puglisi. Le frazioni sono però isolate, pertanto quest'intervento urge e si rende indispensabile per ripristinare la viabilità. Le scuole oggi sono state regolarmente aperte. Continuando a salire verso l'Etna troviamo Lingua Glossa. Anche qui in paese sono stati oltre 20 centimetri di neve caduti in centro, cosa che non accadeva da tempo. Positivo invece il fatto che le copiose nevicate in montagna daranno vivace impulso alla stagione sciistica. Già le piste erano state sistemate, afferma il sindaco di Lingua Glossa Rosa Maria Vecchio, e con questa nevicata si entrerà nel vivo della stagione. La ditta che ha vinto l'appalto, prosegue il sindaco, è già attiva da ieri e si sta occupando di spalare la neve per ciò che concerne la parte comunale. L'ex provincia invece ha già fatto una traccia ad una corsia su via Mare Neve. Un'ordinanza sindacale è stata emessa per la chiusura delle scuole in data odierna, eliminando così la problematica viabilità davanti agli edifici scolastici. I collegamenti sono comunque attivi e le strade transitabili.